Oggi si presenta il libro Arriva a Nuda la Libertà con la rivoluzione siriana, tanto vivendo in Francia, non puoi essere là, quindi c'è la mia partecipazione di aiutare i siriani con la rivoluzione. Questo libro è frutto delle mie esperienze, delle mie lezioni vissute da tre anni a questa parte, dall'inizio della rivoluzione siriana, perché non vivendo più lì in Siria ma in Francia sono comunque molto coinvolta nella lotta e nella sofferenza del mio popolo. L'evento di stamattina è il secondo appuntamento di un progetto che qui a Da Vinci stiamo portando avanti da qualche settimana, sono incontri di eccellenza, un percorso che prevede incontri con varie figure di eccellenza del panorama culturale, sia letterario che scientifico. E Mara Malmasri è stata già qui anche l'anno scorso, quando ha letto appunto come si è tra la sua raccolta anni di scala. E quindi quest'anno, approfittando della sua presenza a Salerno per la presentazione del suo nuovo libro, siamo riusciti a organizzare anche un appuntamento per portare avanti il discorso cominciato già l'anno scorso.